Una rete di telecamere da un mese in funzione, i reati che si svelano ora dopo ora, targhe di veicoli, volte e identità di persone che sfreggiano la città, danno sfogo a istinti violenti, pestando i goetani anche senza un motivo. E poi l'abbandono fuori legge di rifiuti e monumenti nel mirino dei vandali. Ora è tutto sotto controllo grazie alla videosorveglianza della polizia municipale che svela ogni reato e non permetta a nessun responsabile di nascondersi. Solo ieri, l'ultimo drammatico episodio, una donna è stata investita da un'automobilista distratto mentre attraversava in tutta sicurezza la strada sulle strisce pedonali in via Carlo del Balzo. Ma questo è solo l'ultimo episodio di una lunga serie di atti vandalici e reati consumati nelle vie della città. Pochi giorni fa il caso del 23enne pestato in via Mancini abbastonate senza un motivo. Sono bastati pochi minuti agli agenti della polizia municipale per rintracciare il responsabile. Ora è caccia al proprietario di un'alfa 147 grigio, ripresa chiaramente con tanto di numero di targa, mentre dopo il pestaggio si allontanava lungo via Matteotti. Pochi metri e gli occhi dei vigili della videosorveglianza hanno registrato tutto, ma non solo. Fanno riflettere le immagini dei ragazzini che a lunedì notte, per noia o forse per chissà quale altro motivo, si divertono a lanciare sassi contro le fontane di Piazza Libertà. Solo qualche settimana fa il 18enne ciclista pirata, che aveva travolto e rotto il femore di un bimbo di solo due anni, era stato rintracciato, sempre grazie al sistema coordinato dalle forze dell'ordine e dalla polizia municipale.